A un anno dalla nascita degli Stati Generali dello Sport, parte in Piemonte la campagna Dillo a Tutti, per convincere tutti i cittadini a praticare uno sport e a promuovere così il proprio benessere. Gli ambasciatori del benessere saranno, nella prima fase, i 100.000 studenti universitari di Torino, testimonial di una campagna di promozione dei corretti stili di vita e di un'attività di formazione interattiva. L'iniziativa, sostenuta dal Presidente del Consiglio regionale e realizzata dal CUS, è stata presentata a Palazzo Lascaris. Questa manifestazione e questa conferenza riporta di nuovo Torino al centro di progetti che comunque nel prossimo futuro saranno molto importanti anche per lo sport nazionale. Mettere insieme alimentazione, attività fisica e sport può essere molto interessante. Mi fa molto piacere che anche la politica abbia sposato questo progetto e il Consiglio regionale in particolare. sarà nostro impegno con il mondo universitario, che sono i futuri cittadini, famiglie, piuttosto che imprenditori, che professionisti e anche sportivi, che possa essere un passaparola davvero per cui anche tutta la città verrà coinvolta. Mi piace molto questa idea che lo sport sia ancora una volta propositivo e naturalmente il sistema universitario torinese è compatto. Grazie a tutti.